Musica Diamo lettura delle formazioni partendo dalla casertana Zivkovic, Letizia, Valentino, Moccia, Ciriello, Fazi, Matese, Conte, D'Ambra, Gambino e Maggio A disposizione ci sono Praiola, Leonetti, De Lucia, Muscariello, Forresta, Difficile, Allegretta, Zaccaro e Petito Juve Sabia in campo con Matteo Esposito, De Cicco, Todisco, Tartaglione, Campanile, Maiorino, Scalera, Esposito, Lamonica, Mauro e Grimaldi A disposizione di Mister Alfonso Belmonte, Di Biase, Daniele, Provisiero, De Blasio, Cuomo, De Julio, Fontanella, Solimeno e Cali Fischia l'arbitro, dai ragazzi, andiamo a vincere Poi è Esposito che cercava il pallone per Leroy di testa, attenzione all'errore, Grimaldi si infila Grimaldi in aria, Fazi ha rischiato, palla al centro, la deviazione, palla in calcio d'angolo Juve Sabia pericolosa, rischiato tantissimo, qui la casertana, Petito, il resto sono tutti i 2001 ma seguiamo la Monica E il Buitre servito da Leroy, ancora il Buitre, la conclusione Zivkovic Esposito subito dentro a cercare la Monica, e il Buitre, Zivkovic la porta in vuota Mauro, Mauro lo mette fuori, clamorosa occasione Juve Sabia, vicino al vantaggio Leroy Al trentaseiesimo ha rischiato la casertana Fischia l'arbitro il traversone in aria di rigore, De Cicco si alza, la Monica, la palla lì Grimaldi, Marino Grimaldi, 1-0 Juve Sabia, si sblocca il match al Menti Fischia l'arbitro, dai ragazzi, andiamo a vincere, Mauro subito prova la conclusione La palla che sfiora, un compagno libero, ancora Tartaglione, si libera, Tartaglione, giocata incredibile, sinistro di Tartaglione Palla che termina al lato, strappo applausi, Andrea Tartaglione, 21 sul cronometro Proprio sotto la panchina della Juve Sabia, intanto Fontanella però di conquista palla, Fontanella, se ne va Fontanella, Moccia, saltato, Fontanella, 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 incredibile Incredibile azione da gol sfumata per la Juve Sabia L'opportunità per la casettana, falcio di punizione dal lato sinistro del campo, va con il destro a battere Palla in aria di vigore, tesa, attenzione, di testa Zinkovic E' andato a colpire l'estremo difensore Finisce così il match al Menti, vince la Juve Sabia 1-0 e bastato il gol di Marino Grimaldi al 43esimo del primo tempo Grazie ad una solita esperienza, la EDI Lima SRL Costruzioni si è sempre distinta Nella costruzione di fabbricati civili e commerciali di pregio Col tempo ha ampliato la propria attività, trasformandosi in una ditta di costruzioni immobiliari Specializzandosi nella realizzazione di edifici residenziali e fabbricati industriali La EDI Lima SRL Costruzioni, acquisendo sempre maggiori competenze Ha conquistato il suo punto di forza diventando leader nel settore Con risultati eccezionali per estetica e qualità, lavori accurati e soprattutto rispetto dei tempi di consegna EDI Lima SRL Costruzioni di Nicola Imperiale Da oltre 40 anni, al servizio della gente A Gragnano, in via Castellammare 149, telefono 081 871 5584 oppure 334 26 49 108 Da anni la nostra famiglia pone attenzione e cura in ogni gesto Ingredienti di prima scelta, esperienza e fantasia ma soprattutto passione Pizzeria da Dino a Castellammare di Stabia dove la pizza sposa una tradizione che dura da generazioni Un gusto di ottima qualità, pizza, frittura, primi piatti, aperti anche a pranzo, basta provarlo Pizzeria da Dino, via Giuseppe Cosenza 263 Si effettua anche i consegni a domicilio, telefono 081 185 86 067 oppure 333 321 3647 Pizzeria da Dino a Castellammare di Stabia Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità Gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi Melis Pizza lo trovi in Via Europa 82 a Castellammare di Stabia Flyline Sport, vestero sport e il tempo libero Da noi puoi trovare tutto quello che ti serve Le marche più prestigiose, novità di grido Tutto quello che ti occorre per soddisfare i tuoi desideri Adidas, Nike, Kappa, Puma, Macron e tanti altri Il nostro marchio ha garanzia dei tuoi acquisti Lo sport è passione, la passione è lo sport e noi lo sappiamo bene Vieni a trovarci in Via Europa 51G a Castellammare di Stabia, Napoli A presto! Spont티 in Via Europa